Oggi incontriamo delle Instagrammer TikToker. Loro con i loro sketch allietano migliaia e migliaia di persone. Vediamo un po' di entrare in questo fantastico mondo dei social media. Lei si chiama Martina Zoiro, viene da Como e oggi ci parlerà delle superstizioni più strane nel mondo. Le superstizioni più strane del mondo. In Egitto aprire e chiudere le forbici senza tagliare nulla o peggio ancora lasciarle aperte porta sfortuna. Se invece lasciate sotto un cuscino aiuta a tenere lontano gli incubi. In Lituania è vietato fischiare al chiuso. Il fischio infatti potrebbe attirare minuscoli diavoli pronti a terrorizzarci. Anche in Russia fischiare in casa potrebbe spaventare l'angelo protettore della nostra dimora e procurarci piccole difficoltà economiche. Nelle Filippine se una sposa prova l'abito bianco prima del matrimonio il matrimonio non ci sarà. In Brasile mettere lo zucchero nella tazza prima di versarvi il caffè sarebbe garanzia di prosperità. Lei è Sonia e viene dalla Ridente Cesena. Oggi ci parlerà dei cinque ristoranti più strani al mondo. Cinque dei ristoranti più strani al mondo. Se non soffrite di vertigini, Dinner in the Sky potrebbe fare a caso vostro. In questo ristorante fondato in Belgio nel 2007 sarete trasportati a 50 metri d'altezza con una gru. Rollercoaster Restaurant. Questo è il ristorante ideale per gli amanti del brivido. Qui hamburger e portate internazionali verranno consegnate a voi tramite un nastro trasportatore in stile montagne russe. Provare per credere. Cat Café in Australia. Tutto nella norma se non fosse che i principali protagonisti sono proprio i gatti. Infatti qui potrete mangiare all'interno di un ristorante normalissimo con però tanti amici a quattro zampe. Ita Undersea Restaurant. Questo ristorante situato alle Maldive vi porterà 5 metri sotto il livello del mare all'interno di una meravigliosa fauna marina. Il prezzo non economico. I limiti di persone 12. Grotta Palazzese a Polignana mare. Se amati luoghi romantici qui sarete all'interno di una roccia nella meravigliosa Polignano. E così catapultati nel fantastico mondo dei social Andrea Evans per TG Evans.